Vi prendo pochissimi secondi prima del video, non preoccupatevi, ho aperto un account Kofi, trovate il link in descrizione, nel caso vorreste, non so, offrirmi un caffè, ma ovviamente non siete obbligati. Sarebbe comunque una cosa carina in quanto il canale non mi genere entrate e questo per me è solo un hobby, ma comunque nel caso vogliate appunto offrirmi un caffè è il primo link che trovate in descrizione. Grazie comunque boys, vi lascio al video. Nuova season, nuovo Isekai. Ciao ragazzi, io sono Axel e oggi sono qui per portare alla vostra attenzione uno degli stagionali iniziati proprio qualche giorno fa. Ovviamente il video non contiene spoiler, ma comunque qualcosina relativa al primo episodio la troverete sicuramente, quindi se siete il tipo di persone che considerano spoiler qualunque cosa, beh, salvatevi il titolo dell'anime e correte ad iniziarlo. Per i più curiosi invece adesso parleremo un pochino di quest'anime e di quello che mi sarebbe piaciuto vedere e che spero possa apparire in futuro nel corso degli episodi successivi. Ovviamente come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi per supportare il canale e farmi capire che video di questo tipo, beh, vi piacciono. Bene dire di non indulgere oltre, iniziamo parlando subito di quella che dovrebbe essere la trama di quest'anime. La storia dovrebbe raccontare le vicende di Yuji Sano, un ragazzo che lavora in una Black Company, un'azienda che sfrutta i suoi dipendenti sino all'osso, e di questo ne abbiamo un chiaro esempio, seppur molto lontano dalla realtà in quanto la Black Company in questione è di un altro mondo, in The Dungeon of Black Company, in cui il protagonista, Kinji, e tutti i suoi colleghi vengono sfruttati da una compagnia di scavi sino a praticamente la morte per un salario da fame. Comunque sto divagando, al suo rientro a casa, Yuji viene evocato in un altro mondo e ottiene delle nuove capacità. Queste gli permettono di iniziare a lavorare come domatore di bestie, una delle peggiori classi, tra virgolette, per diventare avventuriero, ma nonostante questo riesce a diventare uno dei migliori avventurieri che ci siano e riesce ad ottenere anche il titolo di saggio, grazie alle sue capacità magiche di molto superiori a quelle altrui. Tutto questo parte proprio dal suo incontro con dei particolari slime, che a quanto sembra, da questo primo episodio sono senzienti ed in grado di catalizzare la magia dello stesso Yuji. Grazie a questo riesce a diventare appunto uno dei domatori di bestie più forti e conosciuti che ci siano. Purtroppo tutto quello che vi ho raccontato sino ad adesso non lo vediamo nel primo episodio, ma semplicemente lo sappiamo leggendo nella trama e questa, secondo me, è una delle pecche più grandi che un'opera animata possa avere. Non so come effettivamente sia l'opera originale, ma so per certo che resta un difetto, far iniziare un anime senza presentare prima i personaggi di cui andremo a vederne le gesta. Se anche l'opera originale da cui è tratto l'anime fosse stata adattata uno ad uno, ne sarei comunque insoddisfatto, in quanto spesso gli animatori fanno dei cambiamenti per adattare la versione animata al meglio, e vi garantisco che presentarne prima il protagonista sin dal suo arrivo in questo nuovo mondo avrebbe solo aiutato a renderlo almeno diverso dai classici zekai buoni soltanto come anime patatine, che alla fine della stagione d'uscita verranno dimenticati, ed ho paura che anche questo farà la stessa fine. Durante il corso del primo episodio abbiamo visto di cose capaci a Yuji, del suo talento come domatore, dei suoi poteri molto sviluppati e del suo legame con le creature con cui ha stretto un patto. Oltre a questo abbiamo visto in che rapporti è con la Gilda da cui ha preso la missione, in cui andava, tra le altre cose, ad uccidere la creatura vista nei primi minuti, facendoci capire quindi che dal suo arrivo alla città non era passato molto, ma effettivamente non sappiamo quanto tempo è passato dal suo arrivo in questo nuovo mondo a quello in città, quindi resta tutto un enorme punto interrogativo. Vediamo anche che probabilmente ha un buon legame con creature diverse da quelle con cui ha stretto un patto come domatore, ad esempio quella che dovrebbe essere una Driade che lo aiuta durante la missione contro le creature che vanno verso la città in cui si trova. Ciò che mi ha più colpito comunque è la scena finale, quella in cui vediamo quello che potrebbe essere un drago risvegliarsi, e le teorie al riguardo sono così tante da non avere nemmeno motivo di illustrarvene qualcuna, ma la scelta più avvincente sarebbe quella in cui il drago si risveglia per via dell'ammontare di potere magico presente in Yuji. Detto questo, in generale l'anime non mi ha veramente colpito granché, mi sarebbe piaciuto qualcosa di diverso ed innovativo rispetto al solito, ma questo è il mio parere riguardo soltanto al primo episodio, Magari andando avanti potrei cambiare idea, anzi direi che spero vivamente di poter cambiare idea, in quanto siamo in un periodo in cui escono veramente troppi isekai, e ormai si stanno finendo le idee e spesso vengono riciclate da altre opere, quindi mi farebbe piacere vedere anime più innovativi e ben costruiti. Sicuramente sarebbe piacevole partire dall'inizio, così che uno spettatore possa capire sin da subito ciò che sta guardando. Mi viene l'esempio più classico di Mushoku Tensei, una nuova è il Fatta Comedio Comanda, un adattamento manga qualitativamente superiore all'80% dei manga dello stesso genere, e un anime con una qualità tecnica di un altro pianeta rispetto alla concorrenza. Queste ovviamente sono solo le mie opinioni, quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi invece di quest'anime dal titolo infinito, e se come me lo seguirete comunque per capire dove andrà a parare. Non dimenticatevi di condividere il video con i vostri amici, così da fargli scoprire questo nuovo isekai, soprattutto se sono amanti del genere, e se vi va commentate pure iniziando delle discussioni, mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti e rispondervi. Ebbene dire che per oggi è tutto, noi come sempre ci sentiamo, al prossimo video. Grazie a tutti.